Da Bulgari in confine con la Grecia, nostri amici di Terzi Coreo, vi rivedrete adesso, con le danze Koftov, è una danza dalle Piro, è la danza Karaguna, è molto bella. Musica popolare, la coreografia sempre popolare, però la nostra Cristina sempre gli dà un tocco, su, bello, musica. Musica 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 Grazie per la peccasso, grazie per la peccasso, grazie per la peccasso, grazie per la peccasso, con morosa di carasso. Grazie per la peccasso, 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 grazie per la peccas Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.